Un uomo di 69 anni è morto in un incidente agricolo a Montesilvano nei pressi della strada comunale Fonte delle More. Stava lavorando il terreno con una moto zappa e mentre effettuava una retromarcia a causa del dislivello del terreno avrebbe perso l'equilibrio finendo sotto la fresa. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 che hanno potuto solo constatare il decesso insieme ai vigili del fuoco del comando provinciale di Pescara e del distaccamento di Montesilvano. Sono inoltre intervenuti la polizia municipale e i carabinieri insieme agli ispettori dell'Asla. Weekend impegnativo per i tecnici del soccorso alpino e spelologico abruzzese e per le eliambulanze del 118 dell'Aquila di Pescara. Sono stati diversi gli interventi di soccorso. Un escursionista 41enne di Lanciano si è infortunato mentre stava effettuando la marcia della Val Serviera, passeggiata in montagna di ben 18 chilometri e che quest'anno ha visto la partecipazione di 600 podisti. A soli 6 chilometri dalla partenza l'uomo si è procurato un'infortunia alla caviglia che lo ha costretto ad interrompere la marcia. Una squadra di terra del soccorso alpino, dopo averlo raggiunto, ha provveduto a collocarlo sulla barella e a estrarlo dal bosco per rendere possibile il recupero da parte dell'eli soccorso del 118 di Pescara. Sul versante terramano del Gran Sasso, una donna di Atri, impegnata in un'escursione con il marito, si è infortunata mentre scendeva a piedi dal rifugio Franchetti. I due escursionisti avrebbero voluto utilizzare per la discesa anche la cabinovia, ma non è stato possibile a causa del forte vento. Dopo aver imboccato un sentiero sbagliato, la donna si è infortunata al ginocchio e alla caviglia e è stata quindi recuperata da una squadra del soccorso alpino che ha provveduto a collocarla sulla barella e a trasportarla a piedi fino alla sua vettura. Il marito l'ha poi condotta all'ospedale di Atri. Intorno alle 18 di ieri, località Prato Capito, nel comune di Lucoli, un escursionista di 67 anni, residente a Roma, ha perso i compagni smarrendo il sentiero del ritorno. Dopo un tentativo da parte del gruppo di ripercorrere la via di Troso per ritrovare la donna, gli escursionisti hanno allertato il soccorso alpino del Lazio che ha immediatamente diramato l'allarme al 118 dell'Aquila. Parallelamente alle ricerche da parte dell'eliambulanza, anche una squadra a terra che ha iniziato a perlustrare la zona esattamente dal punto di smarimento. Grazie alla luce dello smartphone, la donna è stata poi avvistata dall'elicottero del 118. Le sue condizioni di salute sono buone. Cerimonia nella caserma Tito Giorgi all'Aquila per il passaggio di consegne tra il colonnello Sergio Aloia e il colonnello Gabriele Nastasi, da oggi nuovo comandante provinciale della Guardia di Finanza. L'ufficiale superiore è nato a Milano nel giugno del 1973 e proviene dal comando unità speciali della Guardia di Finanza di Stanza Roma, dove ricopriva congiuntamente la carica di comandante dei gruppi energie, sistema idrico e radiodiffusione ed editoria. Dopo aver frequentato l'Accademia del Corpo, ha maturato numerose esperienze e laureato in giudisprudenza e scienze della sicurezza economico-finanziaria. Prende il posto del colonnello Sergio Aloia, che lascia l'Aquila dopo quattro anni per assumere il prestigioso incarico di comandante della Scuola Allievi Finanzieri di Bari. Un viaggio in Croazia dello scouting abruzzese Cesidio Colantonio per visionare il talento della nazionale under-17 croata David Ciolina con il sogno di portarlo in Italia. Il racconto è contenuto in un libro scritto da Colantonio. Ce ne occuperemo tra poco nella rubrica Il Punto.